I cittadini di Laterina e Pergine chiamati al voto per l'elezione del sindaco del nuovo comune unico nato il primo gennaio scorso per fusione. Le elezioni amministrative si svolgeranno domenica 29 luglio, dopo che l'appuntamento dello scorso 10 giugno era stato rinviato per la scomparsa del candidato Giovanni Lari della lista sinistra per Laterina Pergine-Valdarno, un lutto a 48 ore dalla tornata elettorale che aveva inevitabilmente colpito l'intera comunità e che aveva portato alla decisione dell'annullamento di quelle elezioni dal rinvio per l'ultima domenica di luglio. Tre i candidati che si sfideranno Rossella Lattanzi per la lista sinistra per Laterina Pergine, Simona Neri l'ex sindaco di Pergine per la lista Uniti per Laterina Pergine e Stefano Bellezza per la lista Futuro Comune. Si voterà domenica 29 luglio dalle 7 alle 23, subito dopo, inizierà lo spoglio.